Il Teramo prevale sulla Turris nel finale 2-1 e torna a flertare con successo dopo tre K.O. di fila. È stata la vittoria del gruppo, una persuasiva dimostrazione di carattere. Cancellata la deludente prova di Vibo Valencia. Paci presenta due novità dal primo minuto. L'Asic, il luogo di Vittorini e di Francesco al posto di Lari. Solito 4-2-3-1 Bombaggi a ridosso di Pinzauti. Per contro 3-4-2-1 tra le linee Romano e Giannone. Alle spalle di lungo. Ritmi alti, campagna a viso aperto. Terreno sulla carta più congeniale ad una squadra come il Teramo. In difficoltà, invece, contro squadre che si chiudono al riccio. Subito una limpida chance. Sesto minuto L'Asic. Lavora di fisico, scipa il pallone a Loreto ed offre il più comodo degli assist a Pinzauti. Che quasi da zero metri manca l'impatto. Ventottesimo di Francesco devastante sull'otto di destra. Invito al ritroso un assist delizioso per Costa Ferreira che spreca l'impossibile. Chance gigantesca fallita dall'esterno portoghese che tuttavia si farà perdonare. Due minuti più tardi la Turris risponde così. Diachite prima si incarta, poi subisce un fallo evidente. Via libera a Tascone che, affrontato da Piacentini, è costretto ad allargarsi. Destro fuori bersaglio. Quarantunesimo direttamente dalla bandierina. Il sinistro raffinato, soprattutto tagliato di Giannone. Lewandowski sorpreso, ma salvato dalla traversa. Versetto opposto calcio d'angolo e volé di Santoro. Tascone respinge col gomito, ma il braccio è attaccato al corpo. Proteste ingiustificate. La ripresa si apre con un brivido. Giannone dentro per il taglio di Romano. Destro poderoso. Palla sull'esterno della rete. Trascorre un solo minuto. Splendida azione del Teramo. Tutta in velocità. Un tocco e via. Di Francesco. Velo di Pinzauti. Bombaggi. Costa Ferreira. Diagonale chirurgico. Sesto centro e campionato. Per il classe 91. Teramo in vantaggio. I biancorossi insistono. Da Costa Ferreira a Bombaggi. Fendente col mancino. Di poco sopra la traversa. Diversi avvicendamenti nella Turris. I capolex Ferretti e Alma. Poi il moldavo Bojciuk e Signorelli escono da Dalt Romano. Lungo e Giannone. Caneo passa al 3-5-2. Gli ospiti non demordono. Minuto 78. Invito in mezzo dall'ex Ferretti. Buco nella difesa da due passi. Alma devia alle spalle di Lewandowski. Primo gol stagionale per il classe 93. Il grande pregio di non accusare il colpo. E così al minuto 86 Birligea subentrato a Di Francesco pennella. La difesa si ecclissa. Bombaggi concretizza di testa. Evidente l'errore dell'estremo campano a Bagnale. Settimo gol in campionato per il 31enne fantasista biancorosso. Quindi streno a difesa del prezioso vantaggio. Ma Lewandowski non rischierà più nulla. Finisce 2-1. Tre punti fondamentali in chiave playoff. soprattutto una risposta significativa del gruppo.